E' stata eseguita questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Lucera un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due lucerini, Davide Ciro Dori, 30 anni, e Gianluca Cioccariello, di 34. I due sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di spendita senza concerto, cioè contraffatto da terzi, di banconote false e truffa. I reati scoperti sono stati consumati nei comuni del subappennino d'Auno di Motta Monte Corvino dal dicembre del 2016 all'agosto scorso, a Pietra Monte Corvino dal febbraio al marzo scorsi e ad Alberona nel giugno di quest'anno. Le indagini sono partite dalla denuncia fatta ai carabinieri dal titolare di un bar di Motta Monte Corvino. I militari della locale stazione, grazie a questa prima denuncia, sono riusciti a sviluppare un'articolata indagine che ha portato ad adebitare ai due arrestati tutta una serie di circostanze, nelle quali, confidando nella buona fede dei commercianti locali, era stato messo in circolazione il denaro falsificato. E infatti, portata a termine l'attività che aveva interessato il territorio di propria competenza, i carabinieri hanno esteso le indagini ai comuni limitrofi, scoprendo che c'erano stati episodi analoghi a Pietra Monte Corvino ad Alberona. Le vittime del reggino hanno permesso ai militari di delineare il modus operandi di due, che presentandosi nei locali come lucerini di passaggio, chiedevano due birre alla spina di produzione artigianale, che poi pagavano con banconote da 50 euro false. Le descrizioni raccolte, tutte molto precise e particolareggiate dei due malviventi, insieme ad una profonda conoscenza del territorio, hanno permesso ai carabinieri di Motta Monte Corvino di individuare gli arrestati. A carico di Dori e Cioccariello, infatti, risultavano già una prima denuncia per lo stesso reato commesso a Termoli ed un'altra, sempre in stato di libertà, segnalata dai carabinieri della stazione di Deliceto. Tutti i riscontri effettuati dai carabinieri hanno poi trovato ulteriore conferma nelle testimonianze rese dalle vittime che hanno riconosciuto inconfutabilmente i due truffatori.